La squadra mobile di Avellino, in collaborazione con quella di Napoli, ha arrestato due pluri pregiudicati partenopei responsabili di reati contro il patrimonio per furto di medicinali presso l'ospedale Moscati di Avellino. La rapidità nell'esecuzione del colpo, sin da subito, aveva evidenziato che il gruppo di delinquenti costituiva un team esperto e in forte sintonia, evidenziato anche dal fatto, documentato, che i criminali avevano compiuto un sopralluogo due giorni prima del furto, avvenuto di domenica sera intorno alle ore 20. Inoltre, l'organizzazione criminale aveva indotto a ritenere anche che sicuramente la refurtiva aveva già un ricettatore pronto ad acquistarla per poi commercializzarla sul mercato estero. L'attività investigativa avviata a seguito del furto di medicinali oncologici per un valore di oltre 1 milione e 300 mila euro, perpetrato da quattro malviventi nel febbraio 2019 presso la farmacia e l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. La complessa analisi del traffico telefonico, unitamente alle impronte digitali rilevate su alcune buste di plastica abbandonate all'interno della farmacia, nonché l'estrapolazione e il DNA da tracce ematiche lasciate dai malviventi su una finestra rotta per poter accedere all'interno dei locali, hanno consentito di individuare parte del gruppo criminale autore del furto. Sono in corso ulteriori indagini al fine di individuare gli altri due componenti del sudalizio criminale.